Musica Si occupa del pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! Musica Musica Buonasera signori telespettatori e benvenuti qui in prima serata per seguire questo terzo big match della quarta giornata del torneo Super 5 che vede affrontarsi il VFF contro i Zappatori questi ultimi con il competino in maglia dorata e pantaloncini neri mentre il VFF con il competino metà bianca anch'essi con il pantaloncino nero Il saluto al pubblico è venuto fin qui per seguire la squadra del cuore e poi lo scambio di stretta di mano tra calciatore e arbitro Pellegrini! Picio! È giunto il momento del tocco È fortissimo, non si è visto proprio Tra i due capitani C'erano 6 contro 5 Faccia a faccia Quindi batterà il VFF Tutto pronto in questo big match Ci vediamo un po' per le lights Ciao ragazzi! Inizio e primo tempo tra VFF e Zappatori Fulmini Sono arrivati Gol di Amato E la risposta di Merone 1 a 1 dunque Quindi il punteggio Fino adesso Partita da brivido Bravo Luba Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.